Marrochetto Antonio, Marrochetto Salvatore, vostra ragazza, con i suoi secondi, contro Marrochetto, Gianni Cocco e Antonio Senes, un applauso signori, forza, animo! Eccoli qua, Antonio Sorina, il porto Luigi, il porto Sanna, il porto Nassone, un applauso, 3-3 signori, eccoli qua, tentiamo, una verticale bellissima, un applauso signori! Pietro, Sanna, Torinuna, Sergio Bonota, un applauso a questo bellissimo Cannevale 2008, pronti, forza ragazzi, velocissimi, e lui è sempre lì, Sabiga, pronto ad alzarsi sull'agropola di Cavallo, eccoli lì, Salvatore Ancius, fra destra, pista, la pariglia, eccoli qua! Allora, salutati i fratelli diversi, i gemelli diversi, i fratelli Andonelli, allora, eccoli qua, Giuseppe Olia, Barredda e Milena, che suonano la tromba come i nostri tamburini e i trombettini di Cristano, allora, negli anni 20 e 30, veniva annunciata la corsa dal nostro banditore, con la tromba di allora. Eccolo lì, diventa la fare per Gigi Conto, e la! Eccolo lì, la sua spinela anche lui, Tone Sanna, eccola! Eccolo lì, velocissimo, Tone Sanna, eccoli lì, con il suo spadino, Battista Serra, che peccato ragazzi, velocissimo. mi è passato cucito Torinurra velocissimo che peccato l'aveva preso Torinurra della pariglia famosa dentro salute saluta eccolo lì Pietro De Rio saluta anche lui e saluta tutta la compagnia e la gente e lui c'è Pella l'altro c'è Pella di Piazzo questo ci assomiglia di più Torre Sassu Battini Giuseppe Portevo Battini senza strafega l'ho postrenato tenta la sorte è volata percato molto veloce Giuseppe 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 Battini bravo fisico bravo giusto percogli stella spalle aperte testa alta eccolo lì che porta a casa la seconda schiglia la squadra numero 8 di Paloma è perfetto è raccogliato con le spalle affatte è riuscito a portare la casa un applauso un applauso è fiero di aver portato a casa la seconda in chiglia di oggi 2008 eccolo qua Padochelu a casa ragazzo bellissima molto veloce molto bello perfetto grazie fatto che partescono ogni anno al Palio di Siena alla grande alla grande filata del corteo storico che si tiene ogni anno il 2 luglio il 16 agosto a Siena per il Palio eccovi qua spalle d'attori che gli ho promettino spalle d'attori promettini toscani che quest'anno sono con noi per fare ancora più importante più grande questa maniera spalle d'attori cassegno fiorentino